Avevamo assunto l'impegno di affrontare con serietà, con coerenza, ma anche con tanta determinazione questo argomento, pur un argomento difficile. Ricordo a me stesso che il regolamento è del 2006, che si sono succeduti diversi ministri e che non avevano mai risolto il problema. Oggi noi in sede di Consiglio europeo e in sede di regolamento Omnibus siamo riusciti ad inserire il tema dei molluschi e quindi stiamo varando un piano di rigetto, così come previsto dalla nuova politica comune della pesca e oggi anche grazie ad un rigoroso documento scientifico potremo presentare il nostro piano alla Commissione europea e io spero che entro il mese di gennaio questo tema sarà finalmente risolto. Io credo che su questa vicenda e sulla pesca vada posta ogni attenzione, in qualche modo ogni sforzo perché venga rilanciato questo settore. La pesca rappresenta la tradizione, rappresenta tante famiglie, tante imprese che si tramandano questo mestiere e anche questa cultura collegata all'attività della pesca da generazioni. In questo un problema molto sentito, in modo particolare nella nostra città, è quello delle vongole che negli ultimi anni stava diventando impossibile pescarle perché, come è stato dimostrato poi scientificamente ma come ancora prima dicevano tanti marinai, esperti che da anni vanno in mare, dicevano la vongola non cresce più come prima. Quindi i vincoli che limitavano a 25 mm la pesca erano mai fuori dal stato naturale perché la vongola a 20 mm probabilmente già iniziava un declino e a quella misura non arrivava. È stato detto oggi qui a Fano dall'onorevole Castiglione che è il sottosegretario che la delega alla pesca del Ministero delle Politiche Agricole a gennaio si sarà finalmente questa deroga e questa tolleranza sulla misura che permetterà di tornare a pescare serenamente la vongola che era l'obiettivo che ci veniva chiesto da tante persone e che in qualche modo con buona attività politica seria e concreta si è portato a conclusione.